Il giorno più importante, la partita più importante, 80 minuti se basteranno, che per una sola squadra valgono un viaggio sul tetto del mondo. Buonasera e benvenuti al Totti Sporting Club, teatro della finale della ventiduesima edizione del Mundialito. Ecuador contro Marocco, le nazionali in campo, quest'oggi per cercare di portare a casa la Coppa. Per Ramon, va via Ramon stavolta, tiene il pallone in campo, Ramon entra in aria, mette in mezzo, dove però non c'è quasi nessuno. Palla messa al limite dell'aria, può calciare Cardenas e Chacha qui si supera, mette in calcio d'angolo, intervento pazzesco del numero uno. Di testa, mette fuori Burgos e il Quatli, cross in mezzo, c'è Rodriguez, la palla rimane lì, è tutto regolare. Poi però, Chachaoui si divora, il gol dell'1-0 a porta vuota, la sparata alta. Chachaoui prova a dare ritmo alla partita del Marocco, apertura per il Quatli, non rapprende Carrierle, posizione regolare per il Quatli. Controlla, si ferma, mette il sinistro in mezzo, sul secondo palo, è solo Alouan, anzi, Zerrad, la palla è dentro, la palla è dentro. E il Madi, Zerrad, il Marocco, ha sbloccato la finale. Tutta la panchina ad esultare, 1-0 per il Marocco. Non benissimo Rodriguez qui adesso, lo andremo a rivedere. Il Marocco ha in vantaggio, ecco la qui la conclusione, Rodriguez, male. Burgos, spada alla porta, deve difendersi dall'attacco di El Quatli. Eccolo il cross in mezzo, sta uscendo, Chachaoui con il tempo sbagliato stavolta. Incredibile ad un passo dal pareggio, l'Equador stavolta ha sbagliato i tempi, Chachaoui con il cross in mezzo, che parte adesso, teso il pallone, secondo palo, colpo di testa, batteri, batte, attenzione, Chachaoui è uscito, è tutto regolare, la palla esce adesso dall'area di rigore, ma che brivido per il Marocco. L'Equador è andato vicinissimo al gol del pareggio. Ancora rimessa, lunga stavolta, direttamente in area, arriva la sponda di testa, palla ancora in campo, attenzione, Moreno al volo! Si se, mura la conclusione al volo di Moreno, Chachaoui sembrava sorpreso. Attenzione, la palla al centro, rischiosissima, arriva il Farmawi, sinistro del Farmawi dentro! Non ci arriva Chachaoui! Un'altra palla dentro da buttare per il Marocco, battuta però sulla verticale la punizione. Buona la palla dentro, attenzione, è solo davanti al portiere, Ramon ancora esce, Chacha Ramon! Chacha avvalanga la porta e vuota! Pedro superato dal pallone, tutto è regolare. Alouan avanza a palla al piede, può calciare col sinistro, guarda la porta, Alouan prova il sinistro! Alouan! Mohamed Alouan! Il Marocco vince il Mundialido! Strepitosa conclusione col sinistro di Alouan, l'avevamo detto, sinistro educatissimo, prende la mira, scarica una botta infernale sotto l'incrocio dei pali, fa 2-0 per il Marocco. Andiamo a rivedere, Rodriguez forse qui ci può far poco, sta tirando fuori la qualità, arriva adesso il tlipice fisco dell'arbitro, finisce qui il Marocco, vince la 22esima edizione del Mundialido, vince 2-0 contro l'Equador, una bellissima finale, una cavalcata trionfale della squadra nordafricana, tutti in campo a festeggiare, tutti sotto la tribuna.